Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, il secondo appuntamento della giornata e cerchiamo di ragionare su quelle che sono state invece le parole di Massimiliano Allegri a Dazon, a Teore Max, un simpatico siparietto condotto da Andrea Barzagli che è durato una ventina di minuti circa che potete trovare sulla piattaforma che in questa stagione ci ha accompagnato durante tutta la Serie A ragazzi lo dico subito, è ovvio che qui sul canale preferisco parare il calcio giocato e quando non ci sono le partite queste cose sono anche simpatiche, lo metto sulla stessa linea d'onda rispetto a una conferenza stampa pre-partita. Tante volte non riesco, ma per mancanza di tempo a commentare anche le parole dei post partita degli allenatori a meno che non siano in determinati momenti come il finale del campionato oppure la finale di una coppa oppure il momento dall'eliminazione da un'altra coppa perché quelle secondo me sono parole un po' più importanti rispetto a quelle che ci sono banalmente al termine di una partita di campionato che vale tre punti o poco più e quindi preferisco sempre dare la precedenza al campo, a quello che si è visto sul campo da calcio piuttosto che alle parole. È ovvio che quando il pallone purtroppo, aggiungo io, è fermo e non rotola dobbiamo anche abituarci a parlare di queste cose. Ci sono tanti spunti, io so che Allegri è una figura che divide, il tifo so che tanti non avranno nemmeno voluto vedere il programma perché saturi abbastanza pieni rispetto a quella che è la figura di Massimiliano Allegri, io invece vi dico cercate di guardarlo tranquillamente nell'idea che parla uno degli allenatori che ha riportato dei risultati nella Juventus e che in questa stagione invece ha faticato e non poco, ma cercate di gustarvelo in quanto tifosi della Juve e non amanti o hater di Max Allegri perché secondo me poi viene a mancare un po' quel fuoco all'interno di uno sport che dovrebbe semplicemente darci gioia e non rancore. Vabbè, allora, iniziamo da Cortonuso contro Minnesota, sono i nomi delle due pedine che Barzagli presenta ad Allegri per giocare a questa strana versione di Monopoli. Ormai è diventato un classico tormentone che sinceramente ha pure abbastanza stufato anche perché è stato completamente decontestualizzato, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato mille volte. Su internet abbiamo contribuito a creare un mostro e sono in attesa della prossima hit, anche basta con i cavalli associati a Massimiliano Allegri. Sappiamo tutti quella che è la sua passione, sappiamo tutti la sua intervista, sono passati quattro anni, quasi tre, quattro anni. Cerchiamo di andare avanti perché se dobbiamo rimanere sempre su questi binari, ragazzi, diventa abbastanza un po' così. Allora, scontri diretti. Prima casellina che vanno a toccare. Zero vittorie contro le prime tre. Barzagli chiede erano davvero così superiori? Risposta secca. Gli Allegri no, non erano superiori. Però se non abbiamo vinto qualcosa, se non abbiamo mai vinto qualcosa significa che ci è mancato. Nelle partite migliori verso l'Inter, contro l'Inter abbiamo pure perso. Quando capitano queste cose significa che è mancato qualcosa a livello di squadra o a livello di direzione tecnica. Quindi mette lui e la squadra sullo stesso piano e dice se ci sono delle situazioni del genere in cui non vinci mai e magari fai pure la prestazione, la colpa per forza di cose è di tutti. Mi metto in mezzo ai colpevoli, ci è mancato qualcosa. Compro una risorsa, e cioè tra i giocatori che non hai allenato, qual è quello che avresti voluto allenare? Allegri qua un po' se la tira, diciamo la verità. E dice l'unico che mi è mancato da allenare è stato Messi. Ibra, Ronaldo, Ronaldinho, Pirlo, Cassano, Buffon, Robigno. Gli ho allenati tutti. Buffon poi è stato un esempio assoluto sia dentro che fuori dal campo. Under 23. Questo è un passaggio importante perché ragazzi non ci giriamo tanto intorno. Qua parliamo del futuro della Juventus e mai come quest'anno l'Under 23 diventa chiacchierata. Uno, perché comunque hanno raggiunto un ottimo risultato all'interno della Serie C dove purtroppo non sono riusciti a battere il Padova che è arrivato addirittura alla finale playoff. Seconda battuta perché finalmente stiamo iniziando a raccogliere qualche risultato. Nome e cognome Fabio Miretti ma non solo. Possiamo parlare di Sole, possiamo parlare di De Vintra, possiamo parlare di tanti altri ragazzi che abbiamo visti aggregati alla prima squadra. Quindi a chi è stesso. Quindi assolutamente diventa interessante. Allegri dice è un passaggio molto importante per la crescita dei ragazzi. Da primavera a prima squadra c'è un divario troppo ampio soprattutto sulla Juventus. Da noi Miretti ultimamente ha fatto alcune partite buone ma la sua qualità è che è affidabile fin da subito. Quindi senza bisogno di fare chissà quali giri, Miretti è già un giocatore affidabile e questo potrebbe confermare le indiscrezioni uscite qualche giorno fa che confermavano appunto un Miretti prossimo a rimanere in squadra anche nella prossima stagione. Quindi vediamo se davvero sarà così. Queste parole di Massimiliano Allegri sembrano andare esattamente in questa direzione. Poi un'altra cosa che onestamente ha abbastanza saturato nel tutto. Ormai praticamente le discussioni sul mondo del calcio si basano solo su questo. Ne ho parlato anche con un breve short o reel chiamato come volete TikTok sulle varie piattaforme proprio perché ieri sera c'è stata anche questa diattriba all'interno della Bobo TV ma questa credo che sia la storia più vecchia del calcio e quindi giochisti contro risultatisti. Ieri sera Dani secondo me ha dato la risposta migliore e cioè state dicendo la stessa cosa non lo capite sono leggermente sfumature differenti ed è così e rimane sempre così perché Bobo Vieri poi secondo me la riassunta nel modo migliore dicendo io sono d'accordo che in teoria debba essere così e quello che dite sia giusto ma la pratica è un'altra cosa quindi alla fine secondo me in tutta questa diattriba infinita non c'è nessuno che ha ragione perché sono semplicemente due facce della stessa medaglia. La prestazione ti serve per arrivare al risultato. Finisce lì. Se poi uno mi dice io preferisco sempre la prestazione piuttosto che il risultato a costa di non vincere niente lì ragazzi quelle sono opinioni c'è poco da fare la mia opinione è distante da questa e cioè se una prestazione è necessaria per arrivare ad avere dei risultati. Lo dico sempre sono un risultatista sì ma sono sporco perché la prestazione rimane fondamentale analizzarla perché se no normalmente potrei centrare il video e dire ok abbiamo vinto ok abbiamo perso ok abbiamo pareggiato e finirebbe tutto lì. Non sarebbe niente divertente. Barzai gli dice un'altra grande verità secondo me e cioè chi vince non potrà mai giocare male ma anche chi gioca bene perde viene criticato perché non ottiene risultato. Ribadisco due facce della stessa medaglia. L'ho detto stamattina lo dico da sempre. Barzai oggi ce lo conferma. Allegri dice beh io su questa cosa poi mi diverto. Quando si va in campo bisogna fare bisogna cercare di vincere e non c'è un modo unico. Anche qua parole musica questo sono assolutamente d'accordo. Servono giocatori forti dice Allegri mettere nelle condizioni di fare bene dare un'idea. Tutti i mister danno un'idea. Ecco queste cose secondo me mai come quest'anno ci sono mancate. Queste sono cose veramente che sono mancate alla Juventus e questo si traduce in non vittorie banalmente dato che ci servono alle prestazioni per arrivare ai risultati. Quest'anno di risultati non ce ne sono stati a meno che non si voglia considerare il quarto posto un risultato che per come si era messa la partita a corso d'opera in inizio stagione sicuramente è un risultato. Se devi considerarlo sulla carta inizio stagione per la Juventus non può assolutamente essere un risultato. Dipende anche qua sempre il contesto fa la differenza. Allegri dice quando alleni una big l'obiettivo è andare a vincere arrivare a vincere. Tutti vogliono giocare bene ma questo è un concetto astratto. Sono abbastanza d'accordo perché quello che può piacere una persona può non piacere un'altra. Io lo ripeto lo ripeterò sempre quando vedo una squadra una formazione che cerca di imitare il tiki taka diversamente da quello che era il tiki taka della Spagna o del Barcellona di Guardiola mi annoia. A me il tiki taka annoia e il Barcellona di Guardiola emozionava perché il tiki taka di oggi non è e non sarà mai quel tiki taka fino a che non arriveranno giocatori storici per fare quel tipo di gioco. Quindi quando vedo una squadra che vuole imitare nel tutto e per tutto quelle squadre leggendarie non riesco a emozionarmi. Mi diverte molto di più una squadra come il Liverpool di corsa costante, di spinta costante, di attività fisica costante perché non ne parliamo mai ma l'atletismo ragazzi è la parte principale per il calcio moderno. Se non vai, non vai. Quindi questa è una cosa secondo me da sottolineare. Allegri dice DNA della squadra. Io vi dico io non sono dell'idea che esista al 100% ma tutte le volte che vedo Real Madrid poi mi rendo conto che forse forse in realtà qualcosa esiste. E poi Allegri va proprio su questo punto del tiki taka che probabilmente è stato lui a influenzarmi per far arrivare questo discorso e dice in Italia vogliamo scimiontare l'altri invece che lavorare sulle nostre qualità. Ecco non sono esattamente d'accordo nonostante abbia detto tutto il contrario di tutto pochi minuti fa nel senso che secondo me dare un'occhiata vedere come giocano gli altri, vedere come il calcio si sviluppa al di fuori dell'Italia e soprattutto come si sviluppa nei paesi ovviamente superiori al calcio italiano e nelle competizioni europee di rilievo come per esempio la Champions League ecco credo che quello sia molto utile interessante e necessario perché c'è sempre da imparare dagli altri paesi e c'è sempre da imparare da chi riesce tramite risultati a raggiungere di più di quello che stai facendo te. Poi ovviamente dice Allegri ed è qua il discorso a forza di rincorrere altri una volta guarda il Barcellona, una volta guarda il Bayern, una volta il PSG qui invece sono appunto d'accordo perché un conto è imparare e osservare quello che accade al di fuori, un conto è voler replicare al 100% quello stampino ecco quello secondo me non è giusto perché per far rendere al meglio una squadra devi basarti su quelli che sono i calciatori della tua squadra senza pensare che che bello vorrei fare esattamente quella roba lì, sì ma la puoi fare quella roba lì oppure no, se no il rischio è di arrivare a cercare di fare una brutta copia e basta. Aneddoto di Barzagli, l'autogol contro l'Inter, Allegri dice ho pensato a quell'autogol se non ribaltiamo questa partita ho perso Barzagli per sempre, Barzagli dice Iguain mi fa ancora pesare quella cosa e tutte le volte che mi vede mi dice l'altra due ti ha salvato la vita e bla bla bla, questa mi ha fatto ridere. Cazzeggio creativo, un po' di clip di Pogba che gioca basket, di Blauvic che tira in porta con troppo in soglio, Allegri dice che sono momenti per avere un rapporto diverso con i calciatori, serve anche per stimolarli, quello è un classico di Allegri, il casteggio creativo c'è sempre stato nell'allenamento di Massimiliano Allegri io qua non sono allenatore, non ho idea se conti oppure no, nella mia carriera di calciatore a livello omatoriale che non c'entra niente con quello di Serie A, questi momenti sono quelli che mi hanno fatto innamorare di uno spogliatoio e spero che questa cosa possa essere traslata anche ovviamente a quello che è il rapporto dei calciatori con l'allenatore. Leadership, ecco qua, credo che ci sia da parare tanto perché questo è un concetto chiave secondo me che ci proietta anche al calciomercato della Juventus, Allegri senza agire di parole ti dice, o ce l'hai o non ce l'hai. Buffon, Chiellini, Barzagli, questi sono i giocatori italiani che hanno dato leadership alla Juventus negli anni, non mi ricordo se c'era anche Bonucci, penso di sì. Per il futuro dice, ci sono De Litt e Locatelli, oltre che a Danilo che è stata una piacevole sorpresa, parla sempre mettendo avanti la squadra, se no uno non è un leader si mette davanti a se stesso. Prima frecciatina, Cristiano Ronaldo, ne sono convinto che questa sia una frecciatina a Cristiano Ronaldo e non sarà l'unica di questa discussione. È la squadra che ti riconosce leader, nello spogliatoio ci sono leader tecnici e leader carismatici. Vlaovic può essere leader, sì, ma a modo suo, perché vuole sempre vincere. Lui non sarà leader a parole, ma diventerà un leader in campo, leader di campo. E poi fa un altro passaggio, un altro passaggio a Ronaldo e dice, non è che a un certo punto quando le cose vanno male chiami il tuo procuratore e chiedi di cambiare squadra. Se sei un leader rimani in campo e dimostri di essere ancora un grande calciatore. Per me queste due non possono non essere interpretate come frecciatina a Cristiano Ronaldo e a quello che è accaduto in questa stagione. Sbaglierò? Amen, opinione mia personale. Qui, poi tra l'altro mi sembra che ci sia un piccolo spoilerino sul mercato da parte di Allegri, perché Allegri ti fa proprio capire che all'interno della Juve, a parte quei due o tre citati, mancano dei giocatori con leadership forte. E Allegri conclude dicendo, è più facile allenare i grandi campioni per quanto mi riguarda. E quindi credo proprio che qua Allegri ci stia facendo capire che, qualora ce ne fosse stato bisogno, io aggiungo perché qui su questo canale, diciamo da quando Pirro era ancora allenatore della Juve, da quando Allegri era soltanto rumor, allora se vai su Massimiliano Allegri ti serve costruire la squadra secondo determinate dinamiche che sono appunto calciatori con leadership. E tra l'altro adesso vi spiegherò che c'è tutto Allegri all'interno di una chiacchierata. Puoi rigiocare una partita, quale giochi? Allegri dice, vabbè, è facile, le due finali di Champions, rigiocherei delle due la prima. E allora Barzani dice, ah sì, la prima? E invece io ti chiedo di Cardiff. Sai dirmi che cos'è successo a Cardiff? Ti sei dato una spiegazione di quello che è accaduto a Cardiff e Allegri la dà. Sentirne parlare oggi a cinque anni di distanza e con Real Madrid che torna a vincere una Champions League, Real Madrid da Cardiff, a Cardiff ne vince una, poi ne vince un'altra ancora e poi ne vince una l'altro giorno e noi siamo ancora qua invece che sogniamo questa cosa. Questo fa capire quello che dicevo prima che forse il DNA ce l'hanno solo poche squadre, Real Madrid è sicuramente una di quelle che ce le ha all'interno dell'Europa. Forse noi abbiamo un DNA nazionale dove entro i limiti dentro i confini per usare un tormentone fino al confine, sì, preferisco fino al confine piuttosto che nemmeno fino al confine, ecco se proprio devo dire la verità, infatti quest'anno non essere arrivato nemmeno fino al confine mi ha dato fastidio. Allegri dice siamo arrivati in discesa a Cardiff, da Firenze in poi con i quattro davanti addirittura forse arriviamo da favoriti eppure Real era in ascesa. Noi siamo arrivati morti con gli infortuni a fine primo tempo di Mandzukic e Pjanic, loro invece l'hanno capito ed erano veramente forti e quindi hanno vinto giustamente. È per questo che credo che Allegri andrebbe più a rigiocare la prima nella seconda, secondo me era davvero convinto che ci fosse poco da fare nella prima ragazzi. Oggi Romeo sul suo canale parlava di quel rigore su Pogba, un fischiato di Dani Alves. Ecco, tra l'altro mi fa impressione pensare che quelli sono stati due giocatori che hanno giocato con noi una finale di Champions e che Dani Alves ci ha addirittura battuto per poi perdere invece la finale contro il Real Madrid. Quell'episodio poteva davvero cambiare la storia della Juventus. Andiamo indietro di quasi una decina di anni, però mi pesa ancora. Quando giochi una finale con una squadra, con squadre simili a livello di mentalità e di forza, Allegri dice chi difende meglio vince. Ecco, io anche qui non sono d'accordo perché secondo me è troppo riduttivo dire una roba del genere. Servono sempre tutte e tre le fasi nel calcio. Fase di possesso, fase di non possesso, fase di transizione. Se viene a mancare una di quelle tre, come diceva prima Barzagli, non vinci perché non fai la prestazione fatta bene e quindi di conseguenza non riesci a esprimere un gioco efficace. Questo sarà per sempre il mio modo di intendere calcio. Se viene meno una delle tre frasi, puoi vincere ma non è così proprio scontato e anzi forse molto complicato. E infatti quando si dice che il Real Madrid ha solo avuto culo in questa Champions, ragazzi, il Real Madrid ci ha dimostrato che rimane dentro la partita e che segna quando c'è da segnare. Sa sfruttare gli episodi e sa fare benissimo le tre fasi possesso o non possesso transizione. Sa esattamente cosa fare quando cambia la fase. E non è mica poco, eh? Questo non è poco. Poi, a me qua dispiace, ma se qualcuno queste cose non le riesce a vedere, non è colpa del Real Madrid. Semmai è un merito, perché è ancora più difficile decifrarla questa cosa. E tra l'altro vi faccio un esempio concreto della Juve di quest'anno, dove noi abbiamo avuto praticamente una sola fase, cioè quella di non possesso, dove la transizione non sfociava mai in un attacco e quindi non si trasformava mai in fase offensiva. La finale di Supercoppa Italia disputata a San Siro, dove è vero che perdiamo per l'errore di Alessandro, però sappiamo bene che quella partita è stata veramente mal interpretata e mal preparata dalla Juventus di Allegri. Quindi questi sono esempi. Non basta difendere bene in una finale. Serve fare tutto bene. No al Real Madrid. Cosa aveva in più la Juve? Allegri dice, era una sfida che mi ero posto nel tornare. È stata anche una scelta di cuore legata a mio figlio che viveva a Torino. Poi dice, insieme alla società voglio vincere questa sfida con vittoria in Italia e tornare a fare bene in Europa. Ma guarda, Max, per l'amore del signore, non c'è una cosa che spero di più a livello sportivo rispetto a questa. Quindi un grande in bocca al lupo perché veramente un altro anno come questo non può passare alla Juventus dopo tutte queste ultime annate in cui non stiamo andando per niente bene. Due anni di stop. Cosa non ti è mancato del calcio? Allegri dice, guarda, mi sono serviti questi due anni. Mi sono riavvicinato alla famiglia e amici, cose che non puoi goderti dentro al casino. Il review è cambiato perché puoi giocare dentro l'area. Tra l'altro a me sembrava che si potesse fare anche con Allegri forse all'ultimo anno, ma forse sbaglierò. E poi Allegri dice una cosa che secondo me descrive alla perfezione quello che è Massimiliano Allegri e che va al di là della solita chiacchiera da bar o la critica forzata. Secondo me questo è Massimiliano Allegri e tanti ancora non hanno capito. È necessario allenare i giocatori a livello determinato momento della partita. Perché non sono tutti uguali i momenti? E questo un po' lo abbiamo perso. Io aggiunco, quando si dice che Allegri niente schemi e che quindi arretrato, niente schemi sono d'accordo, o comunque pochi, pochissimi forse sul calcio piazzato, ma sono principi di gioco questi. E quest'anno questa cosa non ha pagato, non ha funzionato e si è tradotto, come dicevo prima, in niente prestazioni e quindi di conseguenza niente risultati. Ed è per questo probabilmente che Allegri vuole dei giocatori pronti, perché sono giocatori che sanno leggere i momenti della partita e riescono a capire quelle che sono le richieste dell'allenatore. Secondo me questa è una cosa essenziale se si vuole andare avanti con Massimiliano Allegri. Se no, non ha senso andare avanti con Massimiliano Allegri e si prende un'altra strada, si apre un altro percorso, un altro progetto. Poi questa è la frase che ha fatto infuriare un po' tutto il web, l'ho letto già da stamattina prima di vedere l'episodio. Barzagli dice come si sostituisce uno come Dybala? E Allegri dice credo che debba tornare a essere se stesso. C'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Io qua alzo le mani, ve l'ho sempre detto Dybala e Dybala. E infatti Allegri dice doveva invece essere se stesso, poi io quello che è accaduto nello spogliatoio, ribadisco alzo le mani, non lo posso sapere. Non può copiare o emolare un altro. Paolo ha ancora tanto da dare al calcio, gioca a pallone in maniera divina, però deve concentrarsi sulle sue qualità tecniche e fisiche. Barzagli aggiunge, io gli ho detto la stessa cosa, si erano create troppe aspettative, i suoi anni migliori giocava da Dybala e rendeva come tutto campista. È vero, perché era davvero ovunque. Poi vabbè, c'è un momento che mi ha fatto riderissimo di magia nera dove la regia chiede ad Allegri di rilanciare il dado perché non si era visto. Allegri dice no vabbè ma non vale perché poi tutto sfalsato, ritira il dado e esce ancora due. Qua veramente magia nera. Parla di centrocampo e ancora vedete com'è tutto unito. Dice oggi ci sono giocatori diversi dal primo anno, quindi giocatori che non riescono a capire il momento della partita, bla 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 di quello che abbiamo appena discusso. Ma Locatelli è stato un ottimo acquisto. Potrebbe essere il futuro capitano della Juve. Può restare tanti anni. Poi battuta, Pogba non tornerà sicuro perché ha paura di sfidarmi. Ma qui ride mentre lo dice. ride come un dannato perché sa cose che noi non sappiamo e siamo qui a dire voglio delle notizie su Pogba che non ci sto più dentro. Dateci delle notizie su Pogba. Illudeteci no, illudeteci no, sono già abbastanza illusi. Dateci delle conferme. Dateci delle conferme. Poi vabbè, su Oliver si poteva anche togliere quella parte. E poi concludono dicendo esterni, chiede Barzagli, potremmo vedere una Juve con due esterni veri? E Allegri risponde banalmente. Potremmo vederla che significa tutto o niente. Ora siamo ormai a 22 minuti circa che è esattamente la lunghezza della puntata e vi chiedo scusa. Ho ripreso tanti punti della puntata e li ho sviscerati raccontandovi la mia posizione. Non poteva essere altrimenti se non lungo così questo video. Quindi ancora una volta chiedo scusa. Magari domani mentre andate a scuola, a lavoro, mentre siete in palestra con le cuffiette, con la radio della macchina o in autobus, quello che è, in metro, vi ascoltate tutto. Vi fate due ghignazzate, due risate. Bello anche il finale, secondo me, dove Allegri dice a Barzagli mettere una sua foto sul comodino perché gli ha svoltato la carriera e poi Barzagli dice sì vabbè chi lo spiega a mia moglie è che quando mi alzo vedo la tua faccia. Risate, tranquillità, calma, poca pressione. Oggi mi sono divertito, è stata una chiacchierata piacevole, è stato veramente un buon clima. Però oggi, oggi al 31 di maggio, dove la Juve ha concluso la stagione e l'ha conclusa male proprio con Massimiliano Allegri in panchina e dove si sta lavorando perché era una Juve nuova da dare in mano a Massimiliano Allegri per cercare di riprendere quei binari che Allegri aveva lasciato durante il suo primo ciclo. Perché oggi è andata così, quest'anno è andata così, ma l'anno prossimo sarò super esigente perché come dicevo anche nel video di oggi sul finale, Allegri quest'anno ha avuto un po' la sindrome dal posto fisso, no? Sapere di avere comunque il posto assicurato in ogni caso. L'anno prossimo non sarà così e l'anno prossimo ci sarà molta più pressione rispetto a quest'anno e molta più pressione rispetto a questa chiacchierata e ci mancherebbe altro. Quindi davvero distendiamoci, oggi ridiamo, godiamocela anche con aneddoti del passato, il passato glorioso, vincente della Juve dove le cose andavano comunque molto bene con la speranza e il sogno di tornare a esultare come hanno fatto gli altri tifosi quest'anno e come purtroppo non abbiamo fatto noi. Grazie. 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 Grazie.